Solo un anno dopo la creazione del cubo, nel 1965, con la radio RR127 è di nuovo rivoluzione. Gli apparati sono i medesimi, ma la dimensione estetica è totalmente nuova. L'apparecchio si caratterizza per un design squadrato, monolitico e per la totale assenza di curve. Un parallelepipedo fatto di angoli retti che può essere disposto sia in orizzontale che in verticale, guadagnandosi per questo l'appellativo di grattacielo. La doppia grafica delle frequenze è ispirata a quella delle prime autoradio americane. I tasti sono a scomparsa, discreti e belli da vedere, ma allo stesso tempo comodi e funzionali. Si tratta di un oggetto lineare ed elegante, che grazie all'ingombro ridotto e alla possibilità di essere posizionato verticalmente, risulta ancora più facile da collocare, che sia su uno scaffale di una libreria o sull'angolo di un comodino. Ciò che accomuna tutti questi oggetti è che in essi la forma non dichiara più la funzione. È possibile dimenticare che si tratti di una radio o di un televisore, considerandoli come parte dell'arredamento.